Leo. Si trovavano nel cortile di un vecchio complesso residenziale simile a un monastero. Pareti di mattoni rossi erano ricoperte di tralci di vite. Grandi alberi di magnolia spaccavano con le radici il lastricato. Il sole picchiava forte e l'umidità era al 200%, per cui c'era perfino più afa che a Houston. Da qualche parte lì vicino, Leo sentì l'odore di pesce fritto. Sopra di loro si stendeva una coltre di nubi bassa e grigia, striata come il manto di una tigre. Il cortile era grande quasi come un campo da pallacanestro. Abbandonato in un angolo alla base di una statua della Vergine Maria, c'era un vecchio pallone da calcio sgonfio. Lungo i fianchi dell'edificio le finestre erano aperte. Leo scorse qualche guizzo di movimento all'interno, ma nell'aria aleggiava un silenzio irreale. Non c'erano tracce di aria condizionata, il che significava che dovevano esserci mille gradi là dentro. Dove siamo? Nella mia vecchia scuola, rispose Hazel. L'Accademia Sant'Agnese per fanciulli di colore indiani. Ma che razza di nome? Il figlio di Efesto si girò a guardare l'amica e gli scappò un grido. Hazel era un fantasma, una sagoma di vapore nell'aria umida. Poi guardò giù e si rese conto che pure il proprio corpo si era trasformato in nebbia. Intorno a lui tutto sembrava solido e reale, però lui era uno spirito. Dopo essere stato posseduto da un neidolon tre giorni prima, non apprezzò molto la sensazione. Prima che riuscisse a fare domande, una campana suonò. Non era un suono elettronico moderno, ma il vecchio rumore di un battacchio sul metallo. È un ricordo per cui nessuno ci vedrà, disse Hazel. Guarda, ecco che arriviamo noi. Noi? Da ogni porta, dozzine di ragazzi si riversarono nel corridoio, gridando e spintonandosi l'un l'altro. Erano per lo più afroamericani, con una manciata di ragazzi dall'aria ispanica, i più piccoli in età da scuola materna, i più grandi da liceo. Leo capì di trovarsi nel passato perché tutte le femmine indossavano abiti lunghi fino alle ginocchia e scarpe di pelle con la fibbia. I maschi portavano una camicia con il colletto bianco e pantaloni con le bretelle. Molti avevano un berretto da fantino. Qualcuno si era portato dietro il pranzo. I loro abiti erano puliti, ma consumati e stinti. Alcuni ragazzi avevano buchi sulle ginocchia dei pantaloni o scarpe con i tacchi che venivano via. Un gruppetto di ragazze cominciò a saltare la corda con un vecchio filo per stendere i panni. I maschi più grandi si lanciavano avanti e indietro una logora palla da baseball. Quelli che avevano il pranzo si sedettero a mangiare e a chiacchierare insieme. Nessuno prestò la minima attenzione ai fantasmi di Hazel e Leo. Poi Hazel, l'Hazel del passato, entrò nel cortile. Leo la obbe senza nessuna difficoltà, anche se sembrava avesse un paio d'anni di meno. Portava i capelli raccolti in uno scignon sulla nuca. I suoi occhi dorati schizzavano con imbarazzo da una parte all'altra del cortile. Aveva indosso un abito scuro, a differenza delle altre ragazze che portavano abiti di cotone bianco o a fantasie floreali color pastello, per cui spiccava come una prefica a un matrimonio. Si spostò lungo la parete, stringendo un sacco di tela per il pranzo, come se tentasse di non farsi notare. Ma quella tattica non funzionò. Un ragazzo gridò «Strega!» e si diresse sicuro verso di lei, spingendola in un angolo. Avrebbe potuto avere quattordici come diciannove anni. Non era facile capirlo perché era grande e grosso, molto probabilmente il più robusto di tutto il cortile. Leo immaginò che fosse stato bocciato svariate volte. Indossava una camicia sporca del colore degli stracciunti, pantaloni di lana lisi, dovevano essere scomodissimi con quel caldo, e niente scarpe. Forse gli insegnanti avevano troppa paura per costringerlo a mettersele, o forse non ne aveva nemmeno un paio. «Lui è Rufus», disse il fantasma di Hazel. «Sul serio?» «Dai, non ci credo», replicò Leo. «Andiamo!» Il fantasma di Hazel si diresse fluttuando verso i due ragazzi che discutevano. Leo la seguì. Non era abituato a fluttuare, ma una volta aveva guidato un monopattino segue e funzionava un po' nello stesso modo. Gli bastò chinarsi nella direzione in cui voleva andare e scivolò in avanti. Rufus aveva i lineamenti piatti, come se trascorresse la maggior parte del tempo a sbattere il muso per terra. Anche i capelli sulla parte alta della testa erano piatti. Un aeroplano in miniatura avrebbe potuto usarla come pista d'atterraggio. «Dammi il pranzo», ordinò allungando una mano. Hazel del passato non protestò. Gli porse il sacco di tela come fosse un'abitudine quotidiana. Alcune ragazze più grandi si avvicinarono per ammirare lo spettacolo. Una guardò Rufus e ridacchiò. «Non vorrai mica mangiare quella roba», lo avvisò. «Probabilmente è veleno». «Hai ragione», commentò lui. «Te l'ha preparato quella strega di tua madre, Levec?» «Non è una strega», mormorò Hazel. Rufus fece cadere il sacco del pranzo per terra e lo pestò, schiacciandolo con il tallone nudo. «Riprenditelo pure. Voglio un brillante, però. Ho saputo che tua madre li crea dal nulla. Dammi un brillante!» «Non ho nessun brillante», ribatte Hazel. «Vattene via?» Rufus strinse le mani a pugno. Leo aveva frequentato abbastanza scuole turbolente e famiglie affidatarie, per capire quando le cose stavano per mettersi male. Avrebbe voluto intervenire per aiutare Hazel, ma non poteva farlo in quella forma spettrale. E poi tutto ciò era accaduto vari decenni prima. All'improvviso, un altro ragazzo spuntò fuori alla luce del sole. Leo rimase a bocca aperta. Quel ragazzo era uguale e identico a lui. «Visto?» fece il fantasma di Hazel. Il ragazzo era alto come Leo normale, cioè era basso. Aveva lo stesso sorriso furbesco che Leo incontrava ogni volta che si guardava allo specchio, un'espressione che spingeva subito gli insegnanti a gridare «Levatelo dalla testa!» e lo faceva piombare dritto in prima fila. Quel ragazzo condivideva con Leo anche gli stessi tic nervosi. Continuava a tamburellare le dita sui pantaloni, a strofinarsi la camicia di cotone bianco e a sistemarsi il berretto da fantino sopra i ricci castani. «No, dai, una persona bassa non dovrebbe portare un berretto da fantino», pensò Leo. «A meno che non lo sia per davvero?» Evidentemente il finto Leo era appena stato rimproverato da un professore. Teneva in mano un berretto a cono, un cappello di cartone con la scritta «Somaro». Leo aveva sempre pensato che esistessero solo nei cartoni animati. Capì perfettamente perché il finto Leo non se lo fosse infilato. Era già abbastanza imbarazzante sembrare un fantino. Con quel cono sulla testa sarebbe sembrato un ognomo. Non appena il finto Leo comparve sulla scena, alcuni ragazzi indietreggiarono, altri si diedero di gomito a vicenda e corsero a guardare lo spettacolo. Nel frattempo quella testa piatta di Rufus, ignaro dell'arrivo del finto Leo, stava ancora tentando di estorcere un brillante a Hazel. «Muoviti, ragazzina!» Rufus torreggiava su Hazel con i pugni chiusi. «Dammelo!» Hazel si schiacciò contro il muro. All'improvviso il terreno sotto di lei fece snap, come un rametto che si spezzava. Un brillante grande come un pistacchio le scintillò tra i piedi. «Ah!» abbaiò Rufus non appena lo vide e si chinò per prenderlo. «No, ti prego!» gridò Hazel, come se fosse davvero preoccupata per quello spaccone. Fu a quel punto che si fece avanti il finto Leo. «Ecco qua!» pensò il figlio di Efesto. «Il finto Leo tirerà fuori qualche mossa di jiu-jitsu in stile hedge e sistemerà la situazione.» E invece il finto Leo si portò la punta del cappello da Somaro alla bocca come fosse un megafono e gridò «Stop!» lo disse con una tale autorevolezza che tutti gli altri ragazzi si bloccarono per un attimo. Perfino Rufus si raddrizzò e arretrò perplesso. Uno degli alunni più piccoli ridacchiò e disse sottovoce «Sammy il buffone!» Leo rabbrividì e si chiese chi diavolo fosse quel ragazzo. Sammy si fiondò stizzito verso Rufus con il berretto da Somaro in mano. «No, no, no!» dichiarò, agitando come un pazzo la mano libera verso gli altri ragazzi che si stavano radunando per ammirare lo spettacolo. Poi si girò verso Hazel. «Signorina Lamar, la vostra battuta è...» Sammy si guardò intorno esasperato. «Il copione! Qual è la battuta di Eddie Lamar?» «No, ti prego, mascalzone!» gridò uno dei ragazzi. «Grazie», rispose Sammy. «Signorina Lamar dovrebbe dire «No, ti prego, mascalzone!» E lei, Clark Gable?» Tutto il cortile scoppiò a ridere. Leo ricordava vagamente che Clark Gable era un attore dei vecchi tempi, ma non ne sapeva molto di più. Evidentemente, l'idea che quella testa piatta di Rufus fosse Clark Gable ai ragazzi sembrò ridicola. «Signor Gable? No!» urlò una delle ragazze. «Chiamalo Gary Cooper!» Altre risate. Sembrava che Rufus stesse per scoppiare. Strinse i pugni come se volesse picchiare qualcuno, ma non poteva aggredire tutta la scuola. Odiava essere deriso, ma con la sua testolina ottusa non capiva assolutamente cosa Sammy stesse combinando. Leo annui, approvando la strategia. Sammy era davvero come lui. Erano anni che lui trattava i bulli allo stesso modo. «Giusto!» gridò Sammy in tono imperioso. «Signor Cooper, lei deve dire «Ma il brillante è mio, mio perfido tesoro!» E poi raccoglie il brillante in questo modo!» «Sammy, no!» protestò Hazel. Ma il ragazzo prese la pietra e se la infilò in tasca con un movimento fluido. Poi si girò di scatto verso Rufus. «Voglio emozioni! Voglio che le signore tra il pubblico svengano!» «Signore, il nostro Gary Cooper vi ha fatto svenire?» «No!» gridarono in risposta molte di loro. «Ecco, visto? Adesso, da capo!» urlò Sammy nel suo berretto da somaro. «Azione!» Rufus cominciò a riprendersi dallo stato confusionale. Fece un passo verso Sammy e disse «Valdez! Io ti...» La campanella suonò. I ragazzi sciamarono verso le porte. Sammy tirò da una parte Hazel, mentre i più piccoli, che si comportavano come se fossero sul libro paga di Sammy, si trascinarono dietro Rufus e si ritrovò trasportato dentro da una marea di bambini dell'asilo. Sammy e Hazel rimasero da soli con i fantasmi. Lui raccolse il pranzo spiaccicato della ragazza, spolverò la sacca di stoffa con ostentazione e gliela porse con un profondo inchino, quasi fosse una corona. «Signorina Lamar?» La Hazel del passato prese ciò che era rimasto del pranzo. Sembrava sul punto di piangere, ma Leo non capì se era per il sollievo, la tristezza o l'ammirazione. «Sammy, Rufus vuole ucciderti!» «Ah, sa che non gli conviene litigare con me!» Sammy si mise il berretto da Somaro sopra quello da Fantino. Si raddrizzò e tirò in fuori il torace scheletrico. Il berretto da Somaro cadde a terra. Hazel rise. «Sei ridicolo!» «Beh, grazie, signorina Lamar!» «Non c'è di che, mio perfido tesoro!» Il sorriso di Sammy vacillò. L'aria si caricò di imbarazzo. Hazel abbassò lo sguardo. «Non avresti dovuto toccare quel brillante, è pericoloso!» «Oh, dai!» disse Sammy. «Non per me!» Hazel lo osservò con aria diffidente, come se volesse crederci. «Potrebbero succedere brutte cose. Non dovresti! Non lo venderò!» a te, Sammy. «Te lo prometto! Lo terrò come pegno del tuo sapore!» Hazel si sforzò di sorridere. «Credo che tu volessi dire come pegno del tuo favore!» «Esatto! Dovremmo darci una mossa! È arrivato il momento di girare la prossima scena! Eddie Lamar rischia di morire di noia durante una lezione d'inglese!» Sammy li porse il braccio come un gentiluomo. Hazel lo respinse ridendo. «Grazie di esserci, Sammy!» «Signorina Lamar, io ci sarò sempre per lei!» sottolineò Sammy in tono allegro. Quindi si precipitarono tutti e due dentro la scuola. Leo si sentì più che mai un fantasma. Forse era stato un idolo in tutta la vita, perché il ragazzo che aveva appena visto doveva essere il vero Leo. Era più in gamba, piuttosto, e più simpatico di lui. Era così bravo a flirtare con Hazel, che l'aveva ovviamente conquistata. Non c'era da meravigliarsi che Hazel avesse guardato Leo in modo così strano la prima volta che si erano visti. Non c'era da meravigliarsi che lo avesse chiamato Sammy con tanto trasporto. Ma Leo non era Sammy, non più di quanto quella testa piatta di Rufus fosse Clark Gable. Hazel disse «Io… non…». Il cortile della scuola si dissolse in una scena diversa. Hazel e Leo erano ancora fantasmi, ma si trovavano davanti a una casa abbandonata, accanto a un canale di scolo ricoperto di erbacce. Una serie di banane appassiva nel cortile. Appoggiata sulle scale, una vecchia radio suonava musica a conjunto. In una veranda ombreggiata, un vecchio pelle e ossa fissava l'orizzonte su una sedia a tondolo. «Dove siamo?» domandò Hazel. Era ancora una sagoma di solo vapore, ma aveva un tono di voce carico di ansia. «Questa non è la mia vita!» Leo ebbe la sensazione che il proprio corpo spettrale si attensasse e divenisse più concreto. Quel luogo gli sembrava stranamente familiare. «È Houston!» si rese conto. «Questo scorcio lo conosco. Quel canale di scolo. È il vecchio quartiere dove è cresciuta mia madre. L'aeroporto è là dietro. Questa è la tua vita!» Hazel era sbalordita. «Non capisco, come...» All'improvviso, il vecchio borbottò. «Ah, Hazel!» Un brivido salì lungo la schiena di Leo. L'uomo teneva ancora gli occhi fissi sull'orizzonte. Come faceva a sapere che i ragazzi erano lì? «Immagino che non abbiamo più tempo», continuò il vecchio con aria sognante. «Bene!» Non concluse la frase. Hazel e Leo rimasero immobili. Il vecchio non diede nessun altro cenno di averli visti né sentiti. A Leo balenò per la testa che il vecchio parlasse da solo. Ma allora perché aveva fatto il nome di Hazel? Aveva la pelle coriacea, i capelli ricci e bianchi e le mani nodose di chi ha lavorato tutta la vita in un'officina. Indossava una camicia giallo chiaro, pulita e immacolata, pantaloni grigi con le bretelle e un paio di scarpe nere lucide. Nonostante l'età, il vecchio aveva uno sguardo acuto e limpido. Sedeva con una sorta di pacata dignità. Sembrava in pace, divertito perfino, come se pensasse «Cavolo, ho vissuto così a lungo! Forte!» Leo era sicuro di non aver mai visto quell'uomo. Perché allora gli sembrava familiare. Poi si accorse che il vecchio tamburellava le dita sul bracciolo della poltrona, ma il tichettio non era casuale. Utilizzava l'alfabeto Morse, proprio come faceva sempre sua madre con lui. E il vecchio stava picchiettando lo stesso messaggio. «Ti voglio beni!» La porta si aprì. Uscì una giovane donna. Indossava un paio di jeans e una camicia turchese. Aveva i capelli neri, corti. Era carina, ma non delicata di aspetto. Aveva braccia muscolose e mani callose. I suoi occhi castani scintillavano divertiti come quelli del vecchio. Teneva in braccio un bambino, avvolto in una coperta blu. «Guarda, mijo! Lui è il tuo bisabuelo!» disse al piccolo. «Bisabuelo? Vuoi tenerlo tu?» Quando Leo udì la voce della donna, gli sfuggì un singhiozzo. Quella era sua madre, più giovane di come lui la ricordava. Il che significava che il bambino tra le sue braccia. Il vecchio proruppe in un gran sorriso. Aveva denti perfetti e bianchi come i capelli. La faccia gli si increspò, seguendo le rughe del sorriso. «Un maschio? Mi bevito! Leo!» «Leo?» sussurrò Hazel. «Quello... quello sei tu? Cosa significa, bisabuelo?» Leo non riusciva a trovare le parole. «Bisnonno!» avrebbe voluto dirle. Il vecchio prese il piccolo Leo tra le braccia, ridacchiando Beato e facendogli il solletico sotto il mento. Il fantasma di Leo finalmente capì cosa stava vedendo. In qualche modo, il potere di Hazel di rivisitare il passato aveva scovato l'unico evento che collegava le loro vite. Il punto in cui la linea del tempo di Leo sfiorava quella di Hazel. «Oh!» In quello stesso momento, Hazel capì chi era quell'uomo. La sua voce divenne molto fievole, vicina alle lacrime. «Oh, Sammy! No!» «Ah, piccolo Leo», disse Sammy Valdés, che ormai aveva più di settant'anni. «Dovrai diventare la mia controfigura. È così che si dice, credo. Diggielo tu per me. Speravo di essere vivo, ma... ahi, la maledizione non lo permette.» Hazel si inghiozzò. «Gea mi ha detto che è morto di infarto negli anni sessanta. Ma non è... non può essere.» Sammy Valdés continuò a parlare con il bambino, mentre la madre di Leo e Speranza stava a guardare con un sorriso sconsolato. Forse un po' preoccupata che il bisabuelo di Leo vaneggiasse. Forse un po' intristita che il vecchio dicesse assurdità. «Quella signora, donna Callida, mi aveva avvertito.» Sammy scosse la testa sconfortato. «Ha detto che Hazel non affronterà il grande pericolo della sua vita finché sarò ancora vivo. Ma ho promesso che ci sarei stato per lei. Dovrai dirle che mi dispiace, Leo. Aiutala tu, se puoi.» «Bissabuelo», intervenne Speranza. «Devi essere stanco.» La donna allungò le braccia per prendere il bambino, ma il vecchio lo coccolò ancora un po'. Il piccolo Leo sembrava perfettamente a suo agio. «Dille che mi dispiace di aver venduto il brillante», continuò Sammy. «Non ho mantenuto la promessa. Quando lei è scomparsa in Alaska, a quanto tempo è passato.» Alla fine ho usato quel brillante e mi sono trasferito in Texas, come avevo sempre sognato. Ho messo su un'officina, ho messo su famiglia. È stata una bella vita, ma aveva ragione Hazel. Quel brillante era maledetto. lei non l'ho più vista.» «Oh, Sammy», disse Hazel. «No, non è stata una maledizione a tenermi lontana da te. Io volevo tornare. Sono morta.» Il vecchio sembrò non sentirla. Sorrise al bambino e lo baciò sulla testa. «Ti do la mia benedizione, Leo. Il mio primo bisnipote maschio. Ho la sensazione che tu sia speciale, come lo era Hazel. Sei più di un bambino normale, vero? Andrei avanti tu al posto mio. Un giorno la incontrerai. Salutala da parte mia.» «Bissabuelo», ripete Speranza, un po' più insistente. «Sì, sì», ridacchiò Sammy. «Il viejo loco divaga. Sono stanco, Speranza. Hai ragione, ma riposerò presto. Ho avuto una bella vita.» «Tiralo su bene, nieta.» La scena scomparve. Leo era in piedi sul ponte del Largo 2 e stringeva la mano di Hazel. Il sole era tramontato e la nave era illuminata solo dalle lanterne di bronzo. Gli occhi di Hazel erano gonfi di pianto. Quello che avevano visto era troppo. Tutto l'oceano si ingrossava sotto di loro e per la prima volta Leo ebbe la sensazione che fossero completamente alla deriva. «Sau, Hazel Levec», disse con voce roca. A lei tremava il mento. Si girò e fece per parlare, ma prima che riuscisse a proferire parola, la nave rullò all'improvviso su un fianco. «Leo!» gridò Hedge. Pestus ronzò allarmato e sputò fuoco nel cielo notturno. La campana della nave suonò. «Hai presente quei mostri di cui ti preoccupavi?» urlò Hedge. «Uno di loro ci ha appena trovato.» «Uno di loro ci ha appena trovato.» Grazie a tutti